io ho un effetto è un altro effetto vieni va, lascia lì, lascia lì scagliamo, scagliamo in qua forza, rapidi lui è mio padre era qual era mio padre? dentro campo scagliamo, trasliamo e ruochiamo sono solo, uno contro uno però è più comodo lo strumento mandalo dietro che lo manda lui ma non fai l'esterno, non fai il centrocampito vieni a andare è bellissimo non è l'escrizione è perciò non è vero, non è vero è vero è vero Occhio eh! Vira! Ehi! Siamo piattati! Caci dentro, vale! Vai vai vai! Ache tu uno di po'! Pedro! E prendevi il portero! Pedro! E prendevi il portero, sempre! E' bella eh! Quando ti sei mangiato l'ha detto questa cosa. Chiamalo, chiamalo! No! Vado a colpire! Vado a colpire Matti! Dai Matti! Palla qua! Fanno uccidere! Dobbiamo ripiazzarci, era pericoloso eh! Posizione! Siamo in due eh! Ah! Non ce la prendi lo stesso! Voglio vedere i francesi, tutti 92, guarda se sono tutti 92! Tutti 94! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Vira, vira! Dai! Eh buona! Qua, largo qua! Guarda che se mi siamo passati... Guarda, fermati! In piscina vestito ti portiamo! Basta che mi facciate togliere prima il telefono! Guarda Marco, dai! Guarda Marco, dai! Non trovo il movimento, vieni, vieni! Io mi asciugo, il telefono! No! Accentrati! Accentrati! Che dico vieni! Tu dico eh! Un'umarinea eh! Cerca solo di fisicarla che maniemo dentro lui! Vieni! Gioca dentro! Gioca dentro Marco! Vieni! Vieni! Go! Go! Grazie! Guarda terminolo eh! Anderlo eh... Vediamo attività! Ecc? Vai! Guarda che rin 증no ci sono, segna l' license da Nliga. Guarda che rin approve le cesane dalle! Guardi lui in qualche colonna! Rit retr quanto riguarda la pace metterò anche vien Carrero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.